Oggi inauguriamo la sede del Comitato elettorale a Geo Samarea. È un punto di incontro perché vogliamo confrontarci, vogliamo discutere, vogliamo dialogare per costruire un programma condiviso. Inizieremo già dai prossimi giorni con degli incontri, abbiamo già programmato diversi appuntamenti, il 26, il 28 e a seguire. Il 26 con gli operatori turistici, il 28 con i giovani. Quindi questo diventerà il punto dove ci incontreremo, discuteremo, dialogheremo, raccoglieremo le proposte che proveranno per mettere a punto il nostro programma. Questo è fisicamente il luogo dove faremo gli incontri per incontrare le varie categorie. Per me piace pensare che il nostro Comitato è il Paese, quindi i cittadini sono le strade, sono le frazioni, sono le piazze, sono i bar, sono le attività commerciali. Quindi noi staremo in mezzo a voi, ascolteremo tutti, raccoglieremo i suggerimenti, le indicazioni, le critiche che ci perveranno perché vogliamo insieme a voi costruire questo programma partecipato che sarà il programma che ci viderà nell'attività amministrativa dal 12 giugno in poi. Quindi grazie, grazie per la vostra presenza e per la vostra partecipazione. Quello che vi chiedo, che ho chiesto alla squadra, che chiedo a voi, che ho chiesto già, abbiamo bisogno di un impegno da parte di tutti. Tutti devono sentirsi impegnati in prima persona in questo percorso che noi ci accenziamo a intraprendere. Questo vuol dire che ognuno deve sentirsi parte attiva, ognuno deve rimboccarsi le maniche perché c'è bisogno della partecipazione e del coinvolgimento di tutti. Da parte nostra c'è grande entusiasmo, grande voglia, grande volontà di fare. Abbiamo già delle idee, vogliamo ancora più svilupparle nei prossimi giorni, quindi chiediamo il vostro contributo anche su questo. Penso di poter chiudere qua questo mio breve intervento, vi ringrazio per la partecipazione, vi ringrazio alla squadra, tutta, tutti, non vi cito ad uno ad uno. Ci sarà l'occasione successivamente di presentare la squadra, lo faremo poi pubblicamente in piazza. Abbiamo già per quasi la totalità, ho completato la squadra che si presenterà poi a tutti gli elettori gioiosati. Grazie per il vostro contributo, grazie per il vostro sostegno, stateci vicino, dateci una mano. Abbiamo bisogno di... Grazie per il vostro sostegno.